A poche ore dal Capodanno, i gelesi che cosa stanno organizzando per la festa più importante e più attesa dell'anno, anzi per la notte più lunga e più attesa dell'anno? Quali sono le mete preferite dai gelesi? Sicuramente c'è una scelta diversa in base alla tipologia del cliente. Le famiglie con bambini tendono sempre a prenotare i nostri hotel siciliani, molto accoglienti e molto buoni perché c'è un'alta qualità di servizi. Invece le coppie un po' più giovani magari vanno tendenzialmente all'estero per passare o il Capodanno in piazza o anche in una discoteca e poi stare fuori fino all'alba. Le crociere rimangono un evergreen? Le crociere rimangono un evergreen, comunque d'inverno sono sicuramente meno scelte rispetto a un clima più estivo. Tra le città e tra le capitali europee qual è invece la più gettonata? Quest'anno Vienna, rispetto magari agli anni precedenti dove magari sicuramente in pole position abbiamo visto Parigi o Londra. La crisi morde forte ma chi vuol viaggiare viaggia? Chi vuol viaggiare viaggia lo stesso, magari spendendo un po' meno ma chi ha il desiderio di un viaggio non se lo lascia scappare. I consigli per i viaggiatori dell'ultimo minuto? Ma se vengono in agenzia qualcosa la troviamo sempre, siamo sicuramente bravi nel confezionare un pacchetto anche all'ultimo secondo. Auguri! Grazie altrettanto a voi!